Virtus Cupello espoltore in campo nella drammatica finale play-out di un'interminabile stagione di eccellenza. Vincenti gli uomini di Carlucci contro il Casalbordino nella semifinale, il pari dopo 120 minuti ha invece premiato il passaggio all'ultimo atto per quelli di Di Camillo contro il Penne. Partita sin da subito vivissima, la Virtus Cupello non attende oltre 2 minuti e 50 secondi per passare in vantaggio con la percussione sulla fascia destra che porta alla conclusione finale di Troiano, che supera Palena per il gol del vantaggio. La Virtus Cupello ha in serie ben tre chiare occasioni per arrivare a quello che sarebbe il clamoroso raddoppio. La prima volta Palena vola a deviare un calcio piazzato di Nicola Margaiotti e manda in angolo. Sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo ancora Margaiotti trova il colpo di testa che potrebbe risultare mortifero per gli uomini di Di Camillo ma c'entra una traversa clamorosa. Poco dopo è il portiere Palena a salire sugli scudi deviando con i riflessi di un felino la conclusione è nell'uno contro uno di Margaiotti lanciato a rete per quello che sarebbe stato il gol del 2-0. Lo spoltore proprio nel corso dell'unico minuto di recupero batte in modo fulmine un calcio d'angolo e riesce a pervenire al pari dopo una serie di deviazioni con la conclusione del centrale Zazas. Si va così a riposo sull'1-1 nonostante le svariate occasioni a favore della Virtus Cupello. La ripresa si apre con tutt'altro ritmo e lo spoltore tiene meglio il campo con gli uomini di Carlucci che giocano invece con minor impeto. L'occasione per tornare avanti si verifica però per la Virtus Cupello su conclusione di testa di Cardinale. Da posizione a dir poco favorevole il numero 6 manda però clamorosamente sul fondo. Lo spoltore approfitta ancora una volta dell'imprecisione degli avversari e passa addirittura in vantaggio intorno alla metà della ripresa. Su pallone giocato in modo perfetto dalla fascia destra dall'indiavolato Colecchia planamente trova il tempo per la conclusione al volo e batte di Vincenzo sul secondo palo. Dall'in poi per lo spoltore il match è amministrato con ordine addirittura sfruttando le occasioni che si aprono in contropiede mentre la Virtus Cupello attacca in modo disordinato. Tiberi fulmina due avversari sulla fascia sinistra e conclude centrando il palo quindi la palla killer capita sui piedi di Petrarulo che però manda clamorosamente alto lanciato in porta da solo davanti a Di Vincenzo. C'è spazio per un ultimo assalto della Virtus Cupello quindi il signor Haka manda la storia alla salvezza di un coraggioso spoltore mentre proprio la Virtus retrocede in promozione al termine di una crudele lotteria dei play-out. Con mister Carlucci, mister Epilogo Amaro. Sì sì, purtroppo il risultato ci condanna ai ragazzi non posso riprovarare nulla la partita è stata decisa dagli episodi noi sull'1-0 abbiamo fallito due volte il raddoppio del 2-0 poi negli ultimi secondi del primo tempo abbiamo subito il gol dell'1-1 quello a livello psicologico forse ci ha dato una botta. C'è il rammarico per non aver sfruttato le occasioni infatti in questa partita secondo me si raccoglie un campionato intero dove noi abbiamo sempre creato diverse palle e gol ma abbiamo sempre concretizzato poco e oggi è stata la dimostrazione perché prendere la traversa con Margagliotti un minuto dopo a tu per tu col portiere sappiamo Palena molto reattivo si è rialzato a deviare la palla e dopodiché negli ultimi 30 secondi li dovevamo essere più attenti abbiamo preso il gol dell'1 pari dal possibile 2-0 per noi all'1 pari è stata una botta a livello psicologico poi nel secondo tempo la partita è stata giocata loro hanno trovato questo guizzo del 2-1 dopo da lì ci abbiamo provato ma non è stato facile perché comunque loro si sono difesi con ordine Possiamo dire che forse è mancato qualcosa nel secondo tempo perché il primo è stato da parte vostra un po' più convinto soprattutto dopo il vantaggio loro nella ripresa la reazione forse non è stata ordinata come poteva essere Molto probabilmente avendo una rosa un po' corta non c'era la possibilità di fare quel cambio con qualche ragazzo che in campo forse ne aveva bisogno però purtroppo c'è il rammarico per il primo tempo perché se vai sul 2-0 poi parliamo di un'altra partita però con i secco in mano non si va da nessuna parte diciamo che il primo tempo meritavamo di più noi al secondo loro e alla fine comunque hanno vinto loro quindi merito allo spoltore ai miei non possono improverare nulla se non quello di essere più concreti che è stata la caratteristica che ci è mancata per tutto l'anno quindi alla fine questa partita secondo me racchiude un anno intero crei, crei, crei ma non segni e poi alla fine l'avversario ti fa gol e chi segna vince e magari anche sapere in ritardo rispetto alle altre di dover disputare play-out può non aver aiutato no? Certamente, noi diciamo 35 giorni fa stavamo al mare e siamo tutti tornati a fare allenamento quindi non è facile ripararsi e stare forti con la testa però le regole sono queste, le dobbiamo accettare certo un campionato d'eccellenza oggi dicevo alla mia squadra che sono 300 giorni che noi stiamo insieme dal 16 di agosto quindi capite che questo campionato d'eccellenza per gente che lavora e la mattina va a lavorare insomma inizia ad essere duro e pesante però le regole sono queste abbiamo aspettato un mese e ci siamo giocati tutti in questi 90 minuti Commissaire Di Camillo dopo questo successo importantissimo dello spoltore insomma missione riuscita, mister Sì, missione riuscita io l'etichetto come un'impresa perché comunque da dicembre in poi la scuola si è ringiovanita tantissimo la società ha preferito mandare via qualcuno di più grande e ringiovanire ancora di più la squadra è stato, non dico un calvario ma comunque una strada molto tortuosa e difficile da intraprendere però oggi è stata una soddisfazione davvero incredibile aspettare un mese per fare queste due partite e riuscire a vincerle tra virgolette tutte e due per salvarsi Insomma, nota di merito chiaramente per Palena per gli interventi nel primo tempo però nella ripresa siete sembrati tutta altra squadra Sì, bravissimo nel primo tempo siamo stati anche fortunati nel non subire il 2-0 ci ha salvato una volta la traversa una volta Palena anche se comunque a qualche occasione a noi prima dell'1-1 l'avevamo anche avuta per pareggiarla poi di inerzia, di spinta nel suo tempo siamo entrati per cercare di vincerla nei 90 minuti e non andare nei supplementari e penso che l'abbiamo meritata Battuta di rito per la prossima stagione ancora sulla panchina dell'Aspoltore? Penso che a Spoltore sicuramente perché oramai questa per me è una seconda casa abbiamo detto con la società di finire questo campionato e sederci a parlare e capire cosa fare adesso con calma decideremo il futuro Con il migliore in campo Francesco Colecchia 8 gol e 6 assist in questa stagione ma soprattutto un assist a dir poco decisivo oggi Sì Che dire siamo tutti felici per aver portato a casa questa vittoria sapevamo che era difficile ma noi conoscevamo le nostre qualità i nostri limiti e abbiamo fatto la partita perfetta penso sia a livello difensivo sia nelle ripartenze siamo stati molto incisivi Ci avete sempre creduto anche nel primo tempo in cui magari avete rischiato un po' di più nella ripresa però grande approccio e partita condotta alla grande Sì siamo andati sotto ma noi non abbiamo mollato sapevamo che la potevamo riprendere in qualsiasi momento siamo stati tranquilli anche perché ci avevamo potevamo aspettare anche i supplementari ci stavano anche quegli ulteriori minuti ma noi ripeto anche quando stavamo di sotto abbiamo fatto sempre la nostra partita e l'abbiamo recuperata Prossima stagione sempre spoltore? Al momento non ti so rispondere la prima meta è sempre per adesso spoltore poi si vedrà